Allora ragazzi, ormai mancano 5-4 ore all'inizio della partita e ieri vi dicevo, nel video di ieri vi ho detto guardate che si gioca contro una squadra che sta messa non male di più, di più. Una città, la parte giallonossa di Roma, i tifosi di fede romanista a Roma, stanno indiavolati, stanno incazzati, si sentono presi in giro, si sentono presi in giro perché comunque la Roma, diciamo loro imputano la Roma, il fatto che tolto De Rossi, esonerato De Rossi, sia stato preso un Juric, e io sono d'accordo con i tifosi, un Juric che secondo me per una squadra che si deve salvare è davvero uno forte, molto forte, però messo in una squadra come la Roma, soprattutto con il suo gioco, perché lui è un gioco molto sparannino, diciamo preferisce più avere due uomini fermi che non vanno in attacco, diciamo, che due uomini portati più vicino alla porta avversaria, quindi queste cose per una squadra, che diciamo tutti noi reputiamo, non dico tra le grandissime, ma tra le grandi, non va bene, non va bene, e quindi c'è un'aria davvero incazzata, incazzata, ecco, tra i tifosi della Roma, i tifosi della Roma che stanno contestando, stanno contestando in questi ultimi giorni, e comunque vengono da una brutta figura, brutta figura in Belgio, dove si è pareggiata una partita, 1-1 contro una squadra davvero, diciamo, di livello bassissimo, ecco, di livello bassissimo, quindi, che cosa è successo? È successo che Di Bala ha dato forfè, però non è tanto Di Bala ad aver dato forfè, Di Bala ha accusato un piccolo fastidio in Belgio, però poi ha dato il suo ok all'allenatore e ha detto io sto bene e posso giocare, l'allenatore non lo ha convocato, non lo ha convocato, l'ha messo fuori e Di Bala se ne è andato, se ne è andato di testa, se ne è andato di testa, tanto che adesso sta chiedendo spiegazioni, no? Anzi, proprio alla società, dice, spiegatemi come stanno le cose qua perché io devo capire dove mi trovo, e si sta iniziando, diciamo, a rompere anche un po' lui, Di Bala, e tornando al discorso che facevo prima di Juric, secondo me, a Juric, cioè per come vedo io questa situazione, conviene più il fatto che Di Bala stia, come devo dire, ha approfittato della situazione, ha approfittato del fatto che Di Bala abbia avuto questo piccolo fastidio in Belgio per non convocarlo, perché ad un allenatore come Juric, cioè un allenatore come Juric preferisce più giocare senza un Di Bala, che magari in fase difensiva può essere considerato un uomo in meno che con un Di Bala in campo. Ok, preambolo questo qua. Quindi, ci sarà un clima di contestazione, un clima, diciamo, non allegro, e il Bologna deve approfittare di questa cosa. Il Bologna giocherà, dovrebbe giocare almeno, da quanto si è capito, dovrebbe giocare con un 4-2 e 3-1, quindi in difesa ci dovrebbero essere le conferme di Posh, Bukema, Lukumi e Liko Janis. E i concorsi di Liko Janis possono essere un'arma, un'arma in più oggi. A centrocampo dovrebbero giocare Froyler, perché Froyler è l'intoccabile del Bologna, e dovrebbe giocare Pobega. Oggi mi aspettavo anche, e ancora fino alla fine non lo sappiamo, mi aspettavo anche un Ferguson titolare, per la verità. Me l'aspettavo, non so perché, me l'aspettavo. Quindi, dicevamo, Pobega e Froyler. Trequartista dovrebbe giocare Odgard, a sinistra Doie, a destra Orsolini, e in avanti Castro, e in avanti Castro. Adesso arriviamo un attimo ad Allinga. Quindi, come formazione va bene, come formazione va benissimo. Io, l'unica cosa, mi raccomando, se si passa in vantaggio di non togliere, per esempio, Pobega e mettere Fabian. Mi raccomando i cambi, ecco. Però come formazione va benissimo. Avere un Odgard più vicino a Castro, in questo momento, rispetto allo schema che c'era prima 4-3-3. Adesso, con Odgard vicino a Castro, il Bologna gioca meglio. Il Bologna e Castro si avvantaggia proprio della presenza di Odgard vicino, più vicino a lui. Mentre prima era più isolato Castro. E poi comunque, ragazzi, Odgard è tanta roba, tanta roba. Odgard viene molto sottovalutato, non dal bolognese, diciamo, dagli addetti ai lavori. Viene molto sottovalutato, mentre Odgard è davvero tanta, tanta roba. Orsolini. Spero che il gol fatto contro il Lecce lo abbia un attimo fatto riprendere, gli abbia fatto capire, anzi, gli abbia fatto ricordare chi è Orsolini, che cosa ha fatto l'anno scorso Orsolini. Perché quello è molto importante, che Orsolini si ricordi cosa ha fatto, cioè, per Orsolini è importantissimo ricordare cosa ha fatto lo scorso anno. Quello deve essere l'Orsolini che serve al Bologna. Sulla sinistra ci sarà uno Ndoye. Ndoye in forma, perché Ndoye è in forma. Secondo me può essere l'arma in più del Bologna in questa partita. Se Ndoye farà l'Ondoye, il Ndoye, come si dice, no? O il. Quello che conosciamo noi sarà l'arma che permetterà al Bologna di fare punti a Roma. Quindi, ragazzi, questo è per quanto riguarda la formazione. Ora, volevo dire una cosa, poi però questo discorso lo completiamo magari nei prossimi giorni, perché oggi era più un discorso sulla partita. Però, ecco, ci tengo a dirla questa cosa, perché ho letto, e l'ho letto su più testate, non su una sola, che a quanto sembra dall'Inga potrebbe dire addio già a gennaio. Un paio hanno scritto che può essere ceduto già a gennaio. Invece, su una testata, non ricordo quale, forse tutto mercatoweb.com, ci ha scritto che il Bologna sta valutando due offerte su Dall'Inga. Sta valutando due offerte che però, in questo momento, non ritiene all'altezza perché, diciamo, farebbe una minus valenza. E quindi stanno cercando di trattare, ecco, di aggiungere bonus, cose così, per non perderci, ecco, per non fare la minus valenza. Ragazzi, io ve l'ho detto l'altro giorno, per me, se Dall'Inga è questo qua, preferisco prenderne un altro, qualcuno che possa sostituire degnamente Castro, quando Castro è stanco, quando Castro magari sarà fuori per una squalifica, però io non posso giocare con Dall'Inga, è un attaccante che ad oggi ha fatto zero gol, zero gol, non posso, non me lo posso permettere. Io Bologna non me lo posso permettere, quindi se si trova l'alternativa giusta a Dall'Inga, io l'operazione la farei. Ci vediamo dopo la partita.